Che impeto! Che stile! Ma chi è? Ultraman? Se si schianta io ringrazio tutti gli dèi della Magna Grecia! Vai, vai così! Ma che stile! Saluta, saluta! Sei un grande! Sei un grande! Le rapide a noi ci fanno una sega! Ma lo zoom non mi torna indietro, rimane su 3-0! Grande lomba, grande! Com'è stato? Emozionante? Adrenalina? A 2000, pensavo di un faccia! Grande, grande! Non dubitare! Grazie!